Dopo il 12 febbraio le ammaccature della macchina del PD come riparate? Il sindaco in carica non è stato riconfermato, quindi qualche problema tra l'amministrazione e il sindaco evidentemente c'è. Per il resto ora si lavora per far vincere Marco Doria, eviterei drammatizzazioni eccessive. Quindi la squadra di Roberta Pinotti lavora per Marco Doria e per le prossime amministrative? Io l'ho detto la sera stessa della sconfitta, ho telefonato al vincitore e ho detto che ovviamente tutto il lavoro che noi abbiamo fatto lo mettiamo a disposizione. Venerdì incontrerò tutti i miei sostenitori che sono tanti, appassionati, entusiasti e che non vanno quindi delusi e metteremo a servizio del candidato del centro-sinistra Marco Doria il lavoro serio e importante che abbiamo fatto in questa campagna elettorale. È stata proposta la sua candidatura per le prossime amministrative e per le prossime elezioni politiche tra un anno e mezzo. Preferisce, in caso si presentasse per le politiche, preferirebbe una legge attuale, la legge attuale oppure una verifica della legge elettorale? Però devo smentire la domanda, non è stata proposta nessuna mia candidatura per le prossime politiche. Io finisco il mio mandato e non ho pensato a nessun futuro, sto pensando a come non buttare via un lavoro importante che è stato fatto per questa città. Sulla legge elettorale va assolutamente modificata. Va modificata perché gli elettori devono poter scegliere i propri rappresentanti, perché ci devono essere meno, un numero minore di parlamentari e perché abbiamo bisogno, diciamo, di avere una situazione di governabilità che non sia però rappresentata da premi di maggioranza che sono inconcepibili con la vera volontà degli elettori. Nonostante quello che si possa credere ho sempre fatto politica cercando di capire che cosa mi chiedeva la realtà e fino ad ora dalla circoscrizione al Parlamento mi ha chiesto di candidarmi. Adesso mi sono candidata a sindaco, non ho vinto, non nego l'amarezza perché mi ero candidata con le migliori intenzioni, però non ho fatto nulla di male. Ho fatto delle cose buone, ho fatto una bella campagna elettorale, ho tante belle persone intorno. Vado avanti e poi adesso, diciamo, ho un po' più tempo per le mie figlie perché la campagna elettorale è stata abbastanza dura, quindi insieme alla politica ci metto un po' di famiglia.